Ciao a tutti, sono Pietro, divulgatore scientifico dei Rolly Days e oggi vi porto all'interno di uno dei palazzi più belli di Genova, Palazzo Angelo Giovanni Spinola. Il palazzo viene costruito a partire dal 1558 fino al 1564 da Angelo Giovanni Spinola su progetto di Giovanni Ponzello. Angelo Giovanni Spinola è uno degli uomini più ricchi del tempo in quanto è banchier diretto di re Carlo V, re di Spagna e grazie alle sue ricchezze riesce a raggiudicarsi in asta questo palazzo battendo l'offerta di Tobia Pallavicino, il proprietario di Camera di Commercio. Tuttavia, egli non riuscirà a vedere completato il suo palazzo in quanto muore nel 1560 lasciando tutto in eredità al figlio Giulio, qui raffigurato con una vittoria alata. Ci troviamo ora all'interno di uno degli altri più belli della città di Genova. Viene affrescato dai fratelli Aurelio e Felice Calvi verso la fine del 1500. Al centro vediamo questa volta Ottogonale, quindi una struttura abbastanza particolare che viene ripresa dai pittori anche nel palazzo interiano Pallavicino e raffigura la battaglia di Gerardo Spinola contro i Fiorentini. Gerardo Spinola era signore di Lucca e di Tortona e sconfigge i suoi nemici in una delle battaglie più famose della casata Spinola, insieme alle battaglie di Francesco e Lanfranco Spinola che si trovano più avanti nel vestidolo. Intorno alla volta vediamo otto figure allegoriche rappresentanti le virtù morali della casata Spinola. Abbiamo in particolar modo una fede cristiana e una gloria eterna. Mentre sui lati vediamo una sorta di Pantheon nella famiglia con i personaggi storici principali della casata. In particolar modo abbiamo Oberto Spinola e Galeotto Spinola che furono due tra i signori del popolo del 1200 e del 1300 a Genova. Siamo saliti ora al piano nobile nel punto focale del palazzo, il salone principale, il salone di rappresentanza. Qui è dove venivano accolti gli ospiti provenienti dall'estero, dove venivano fatte le feste, dove venivano fatte le grandi cene e come vedete è un salone unico per bellezza a Genova per via della sua caratteristica di essere affrescato sia nella volta che alle pareti laterali. Gli affreschi sono della famiglia dei Semino, una delle famiglie principali di pittori a Genova alla fine del Cinquecento che dipingono in tutto il nord Italia, per esempio anche a Palazzo Marino a Milano è affrescato da questa famiglia. E come vedete questi dipinti ai lati, alle pareti laterali, sono dei dipinti che servono per dare prospettiva, quindi per ampliare lo spazio e farci sembrare in una scena più ampia di quella in cui in realtà siamo. Ma la cosa principale sicuramente è la volta, che presenta delle storie di Alessandro Magno, quindi il grande signore, il grande sovrano della storia ellenistica che viene qui rappresentato in alcune scene iconiche. Al centro abbiamo l'incontro tra la regina delle amazzoni Talestri e Alessandro, in una delle scene più famose della vita di Alessandro. Alessandro Magno incontra questa donna, una donna vergine, che si innamora perdutamente di lui, che è l'unico uomo in grado di poterla amare. Poi abbiamo l'episodio di Alessandro che doma a Bucefalo, l'episodio della battaglia di Isso, dove Alessandro sconfigge il re Dario, l'episodio di Alessandro che incontra la regina di Caria, Ada, un episodio del viaggio in India di Alessandro che incontra un bramino, il bramino Calano, e che sarà il suo compagno di viaggio fino al ritorno in Persia, quando malato deciderà di ardersi vivo in onore del sovrano. Poi abbiamo l'incontro tra Alessandro e Aristotele, il precettore che gli chiede di ricostruire la città di Stagira, che era stata distrutta in una precedente invasione. Poi abbiamo l'incontro tra Alessandro e gli storpi, l'incontro tra Alessandro e Diogene, e infine l'incontro tra Alessandro e il pontefice degli ebrei. Ci potremmo chiedere perché il nostro Giulio Spinola decida di far affrescare questa storia ai Semino. Alessandro è sicuramente figura allegorica di moltissime cose, perché è metafora sia delle grandi abilità in guerra, come dimostra la battaglia di Isso, sia per la fama che aveva nei confronti del popolo, quindi l'incontro con la regina Talestri, ma anche le doti morali. Quindi abbiamo la generosità verso Alessandro, l'umiltà nei confronti degli storpi, perché Alessandro si mette al loro stesso livello, e il rispetto della fede nell'episodio dell'incontro col pontefice degli ebrei, quando Alessandro lascia libertà di culto nel territorio appena conquistato. Ma sicuramente Alessandro è anche un grande sovrano, quindi un uomo che è in grado di controllare il suo popolo. E questo è testimoniato dal taglio del nodo di Gordio, sopra la portale del Salone, che presenta appunto una scena in cui Alessandro, con la sua spada, tronca di netto una corda che sembrava essere impossibile da sciogliere. Questa è metafora dell'abilità del buon governo, di Alessandro in grado di saper prendere la soluzione giusta nel momento giusto. E quindi Giulio Spinola, con questa allegoria, vuole mostrare una metafora di quello che sono gli Spinola. Gli Spinola, così come Alessandro, devono essere in grado di essere forti in battaglia, di saper governare sul popolo, ma anche e soprattutto di avere doti morali giuste, equilibrate, come la generosità e l'umiltà. Lo stesso tema viene trattato da Bernardo Castello nel magnifico affresco dell'Antisala. Infatti questo rappresenta la fine della battaglia di Isso, che abbiamo visto nel Salone, con l'episodio della clemenza di Alessandro. Al termine della battaglia, la madre di Dario, Sisi Gambi, viene abbandonata dal figlio e Alessandro, anziché ucciderla, la accoglie alla sua corte. Questo è un episodio ancora una volta allegorico, perché la clemenza di Alessandro è la stessa clemenza che gli Spinola dovevano avere nei confronti della popolazione che controllavano. Ma è interessantissimo vedere lo stile di questo affresco, che è uno stile innovativo. L'artista Bernardo Castello è un artista che si avvicina di più al 600 genovese che al 500. Non è il manierismo dei Semino, ma è uno stile diverso, dove Castello simula una cortina che scende dalla volta, creando questa prospettiva che ci dà profondità e volume alla scena. È un affresco bellissimo, datato 1592, come dimostra la scritta in latino. Abbiamo visto nel Salone principale la storia di Alessandro, quindi uno dei più grandi protagonisti della storia ellenistica. Nei salotti laterali, affrescati anche questi, del fine 1500, sempre da Bernardo Castello, troviamo invece la narrazione delle storie romane. In particolar modo, in questo bellissimo salotto, abbiamo la raffigurazione della storia di Ottaviano. Al centro troviamo il trionfo di Ottaviano, quando sconfitto Antonio e Cleopatra, il sovrano torna a Roma. Ai lati abbiamo invece la battaglia di Azio, quindi la grande sconfitta di Antonio, l'alta di Cleopatra, il suicidio di Antonio di fronte a Cleopatra stessa e infine l'incontro tra Ottaviano e Cleopatra con il famoso suicidio della donna grazie al morso dell'aspide sul suo seno. Come vedete questo salotto, in generale tutto il palazzo, è bellissimo anche per via dell'allestimento della nuova proprietà che rende veramente giustizia agli affreschi. Abbiamo visto i salotti del lato est, affrescati da Bernardo Castello, che presentano le storie di Ottaviano, Scipione e Antonio. Qui ci troviamo al lato ovest con affreschi realizzati da Lazzaro Tavarone, quindi un quarto artista che ci fa capire l'importanza del sito culturale in cui ci troviamo. In questo caso siamo nelle storie di Cesare, quindi nel salotto precedente abbiamo visto la scena delle battaglie tra Cesare e Pompeo e in questo caso ci troviamo con il trionfo di Cesare, quindi il momento in cui Cesare viene acclamato come imperatore del popolo romano. Nei lati troviamo invece però il lento decalimento, di Cesare, fino alla morte dello stesso Cesare ucciso per mano del figlio brutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.